Fai business online, fai soldi online o sei un imprenditore che odia le persone che dicono fai soldi online? Oggi ti rivelerò quando il tuo percorso imprenditoriale verso la ricchezza diventerà semplice e te lo spiego dopo la sigla che non c'è. Allora mi capita molto spesso o abbastanza spesso parlare con studenti, conoscenti, parenti, amici, imprenditori, liberi professionisti, gente che fa soldi, gente che ha l'obiettivo di incrementare il proprio livello di ricchezza. E capita molto spesso di parlare di quando diventerà semplice, quindi è molto comune soprattutto nell'ambiente online, mi permetto di dire, dove le persone sono completamente lesionate, credono in cose che non esistono e continuano a perseguire avventure di business, metodi e cose che non esistono e che non esisteranno, beh lasciamo perdere. Ok, le persone fanno soldi, non è questo il video giusto per rantolare e per lamentarsi di certe cose, va bene? È difficile, le persone scoprono quando fanno online marketing, quando cominciano a dire io voglio vendere qualcosa online a qualcuno, all'inizio si sta molto per aria quando non si ha capito di che cosa si parla, voglio fare soldi online così, laptop lifestyle, va tutto bene all'inizio, è giusto pensare a queste cose qua, è giusto fare i primi soldini in qualunque modo, etico e magari legale, e soprattutto legale, però le persone poi ricercano una stabilità, ok? Dicono io voglio stabilizzare, voglio avere le rendite automatiche, voglio guadagnare eccetera eccetera. Le persone si rendono conto ben subito e chi non se ne rende conto subito avrà degli enormi problemi dopo, che è un po' più difficile di come è stato paventato da persone che magari ci hanno venduto un sogno, persone alle quali ci siamo ispirati, io stesso, ho avuto molte conversazioni con persone che dicono perché tu eri in piscina a fare i live, lo facevi sembrare semplice, a parte il fatto che la mia contro risposta è ma tu il live l'hai sentito quando io ti dicevo che non è semplice, che la piscina è uno specchietto per le lodole, che devi creare un ecosistema, che è dura, che devi metterti i soldi, ma queste cose le hai sentite? Ah no, ma io ho visto la piscina, va bene, ok, perfetto, mettiamoli dentro tutti, perfetto. Quando diventerà semplice? La risposta è mai, ok? Io ho fatto un corso, un corso intervista si può dire con il mio mentor, Dan Kennedy, quello che vedete raffigurato nel protocollo Kennedy, ok, abbiamo fatto il protocollo Kennedy insieme, vabbè, in un corso che abbiamo fatto insieme che si chiama Pregiudizio, come manipolare i tuoi clienti, che è stato dato come bonus a chi è venuto all'evento di febbraio, di Riccione, sulla manipolazione mentale, è stato un evento stratosferico con gli ologrammi, eccetera, eccetera, Dan non è potuto venire perché, poverino, stava morendo, adesso sta meglio, sono venuti i suoi migliori studenti dall'America, abbiamo avuto tre top studenti incredibili, insieme a me abbiamo parlato per tre giorni di manipolazione mentale, vabbè. Chi aveva comprato i biglietti durante il primo lancio, abbiamo venduto tantissimi biglietti, 320 se non mi ricordo male, qualcosa di simile, l'ex lancio più grosso d'Europa che poi abbiamo rifatto col Papi sono io che invece era di gennaio, un record anche maggiore, il lancio per l'evento di febbraio era stato fatto l'anno prima, giugno. Ma lasciamo perdere tutte queste cose. Dan dice che uno dei suoi mentori, lui aveva chiesto a uno dei suoi mentori quando diventerà facile questa roba qua? E il mentore gli ha risposto It's not supposed to be easy. Cioè non deve essere facile. Quindi se stai guardando questo video e guadagni, stai mettendo su un business, magari ti stai espandendo, stai assumendo qualcuno, qualche collaboratore, vuoi fare il salto dai 10.000 euro al mese, 30.000 euro al mese, quello che è, sappi che la difficoltà non finisce mai. La difficoltà all'inizio è capire che cazzo stai facendo, ok? All'inizio oltretutto è possibile anche guadagnare senza capirlo. Si smanaccia un po', si fanno dei funnel, delle campagne, delle robe, arrivano delle commissioni, ma più o meno. All'inizio c'è un pandemonio perché non hai ancora ben capito quello che stai facendo. Poi se continui a studiare, a formarti e a guadagnare, a servire al mercato, comincia a prendere consapevolezza del fatto che, mamma mia, avevo una bomba a orologeria tra le mani, avevo un metodo di guadagno, stavo guadagnando facendo delle cose che non potevano essere a lungo termine, ma io non me ne accorgevo perché vedevo i soldi arrivare e i soldi arrivare era l'unica cosa che contava, perché non capivo che bisognasse fare impresa, ok? Capita a tutti e c'è anche a me all'inizio, non c'è nessun tipo di... non c'è niente di male in questo, ok? C'è chi non si evolve, c'è chi si evolve, benissimo, perfetto. E poi la difficoltà diventa, per esempio, la gestione delle persone, la costruzione di un'azienda, la costruzione di varie linee, prodotti e servizi, la continua monetizzazione del mercato, il capire cosa fare con i propri soldi, il capire di chi fidarsi, di chi non fidarsi, il capire come investire, poi quando investi e sei milionario o multimilionario, come non perdere il patrimonio, come proteggerlo, come bilanciarlo, eccetera, eccetera. Quindi la difficoltà non finisce mai. Nella mia esperienza non sarete mai in una condizione in cui potete non pensare a nulla. forse le persone che possono non pensare a nulla sono le persone o che hanno venduto la loro azienda per 50 o 100 milioni, non ce li hanno neanche investiti, ce li hanno in cash, ci sono queste persone. Quindi non devono neanche pensare a cosa stiamo facendo la borsola immobiliare, non vogliono, c'è l'inflazione, se ne fottono. E pensano a farsi la crociera e basta, ok? A meno che voi non abbiate questa fortuna o sfortuna, c'è anche poi chi si suicida perché non c'è niente da fare, nel momento in cui continuate a fare impresa, a guadagnare, ci sarà sempre un problema, ci sarà sempre un'anomalia. Il mercato cambierà, questa è una delle cose, per esempio, quando all'inizio avete un qualcosa che va bene, se non lo strutturate e non capite soprattutto il perché, ci sono, io ho anche studenti che guadagnano, non sanno il perché e loro sono convinti di essere bravi, non capiscono che c'è una commistione di variabili fortunate, ma non è un demerito, vanno sfruttate le variabili fortunate, ma che non capiscono che potrebbero cambiare. Una, per esempio, classica è la competizione, o studenti in nicchie con zero o poca competizione, per esempio, e io continuo, e alcuni di questi studenti poi si sono trovati in parecchie difficoltà perché arriva la competizione e tu non eri preparato a gestirla perché prima non c'era, ma il fatto che non ci sia è culo, si può dire, cioè occhio perché poi saltano dentro. Il fatto, per esempio, che il tuo business o la tua attività sia legata a un trucchettino o a un loophole, un qualcosina che può essere chiuso, il fatto che tu non abbia controllo sui tuoi prodotti, per esempio, che uno possa fare clic e privarti dei prodotti che stai vendendo. Sono tutte cose che vanno assolutamente gestite. Il fatto che tu non sia proprietario dei tuoi asset, per esempio, una delle decisioni che abbiamo fatto come Big Look International è di farci costruire la nostra piattaforma per la fruizione dei videocorsi, perché che cosa succede se Kajabi, piattaforma che utilizziamo prima, decide di buttarci fuori? Perché dovrebbe buttarci fuori? Perché non dovrebbe. Capitano queste cose. Abbiamo un business multimilionario che va giù? I clienti incavolati che non riescono a fruire dei corsi? No, siamo proprietari degli asset, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, all'inizio questa è un po' la sfida, poi cominciate ad evolvervi in un'altra bestia, ok, cominciate ad evolvere la vostra azienda, ed è difficile, perché dopo capite quello che state facendo, ma c'è il calo delle vendite, la competizione, magari cominciate ad avere qualche bega legale che prima non avevate, siete più visibili, avete più clienti, più clienti felici, e anche più clienti che si lamentano, chiaramente, avete una quota di mercato maggiore, quindi la competizione inizia a dire che cavolo sono questi qua? Quindi se prima, quando iniziate, il tema della competizione è quasi un'illusione, cioè possono esserci, magari c'è una persona di riferimento, voi siete talmente tanto piccoli che non vi caga, voi entrate nel campo della crescita personale in America, magari Anthony Robbins neanche vi vede, cominciate a prendergli qualche decina di milioni, in quel caso di quota di mercato, beh, le cose potrebbero mettersi in una seria competizione, che potreste non vincere o vincere o comunque dovete fare guerra, le risorse aziendali, se prima eravate da soli adesso siete in di più, quindi dovete avere un team, come educare il team, come essere un leader, eccetera, eccetera, quindi ci sono tutta una serie di criticità, e quando cercate, soprattutto se siete in crescita, una delle cose fastidiose è che appena avete trovato la quadra, vi capita qualcosa che ve la demolisce, quindi siete stabilizzati su, non so, 300.000 euro al mese, porca miseria, cambia una variabile, introducono una legge, vi va via il prodotto, oppure volete provare a fare una cosa, e ci sono delle variabili nuove, delle nuove cose da gestire, posso fare l'esempio anche su di noi, noi abbiamo fatto due diversi eventi, uno piccolo, 175 persone a Londra, che comunque è stato un record, e poi quello di Riccione, piuttosto ovvio, da 600 persone con gli ologrammi, palazzetto che impazziva, 3000 euro a testa di record su record, ebbene, il gestire per esempio un evento, e tutte le dinamiche che stanno dietro un evento, è una cosa completamente diversa da gestire un business digitale, molto meglio quello digitale, è semplicemente però diverso, noi volevamo portare in Italia la figura di Dan Kennedy, Dan Kennedy non è potuto venire, abbiamo portato gli studenti di Dan Kennedy, diretti tra questi, la gestione di un evento, l'economia che gira attorno a un evento, per esempio, è completamente, e il focus che ci vuole, e anche a livello di marketing, per esempio, che ci vuole per un evento, è completamente diverso, dalla vendita di prodotti digitali, o consulenza, o coaching, o webinar, eccetera, eccetera, prima o tra tutti, l'evento ha una data, quindi in termini di vendita, tu puoi creare scarcity, e tutte le tecniche finché vuoi, ma l'evento ha una data, differentemente da un prodotto digitale, che può essere chiuso e riaperto, non è per forza bene farlo, però ci siamo capiti, quindi, noi l'abbiamo fatto, per portare questa cosa qua in Italia, che non era mai stata portata, non certo per noi, e avevamo una stabilità, per esempio a livello digitale, era molto molto profittevole, questo ha anche consentito, di spendere una barca di soldi, sia per l'evento di Londra, che per l'evento di Riccione, e ci siamo reso conto, che per esempio, un evento, va molto a cozzare, con la componente digitale, per il semplice motivo, che uno entra in competizione, con l'altro, ci sono tutta una serie di magagne, noi abbiamo fatto la nostra scelta, per esempio, nel servire il mercato, tramite prodotti digitali, piattaforma, coaching, gruppo Facebook, webinar, live, e tutta una serie di collezioni digitali, anche questo qua, che arriva a casa fisico, ha una sua componente digitale, e poi, chi vuole avere di più, viene a casa mia a Dubai, e fa la consulenza privata con me, rispetto, però, c'era una stabilità, è stata spaccata dall'evento, l'abbiamo dovuta ricreare, ok, e non la ricrei neanche, perché adesso, l'azienda dopo l'evento è diverso, e quindi cambiano tutte le variabili, quando identifichi un prezzo, poi quel prezzo non va più bene, o magari cambia il brand aziendale, cambia la filosofia, cambia il team, cambia la direzione, e quindi avevi una cosa che stava funzionando, e la devi modificare, questa è la natura del business, ok, quindi non diventa mai facile, sarà sempre difficile, e sarà sempre un casino, dovete rimanere in sella, e non c'è soluzione, quindi se guardate questo video, per capire la soluzione, quando vi espandete, quando crescete, ci sono altre criticità, altre cose, se all'inizio, per una delle, no, nei personal brand, nei vari consulenti, una delle cose molto difficili da accettare, è hate, ok, l'odio, è chiaro che quando all'inizio, all'inizio non vi caga nessuno, quando voi vendete un corso, va bene a tutte, quando voi vendete mille corsi, cominciate a stare sulle palle, avete notato che, proprio così, voi avete mai notato che, i consulenti, o gli infoprodottari, che vendono pochi corsi, non stanno sulle palle a nessuno, contributo, strano no, Dave Ramsey lo dice in America, e dice scusate, ma quando io ho venduto, 100 copie del mio libro, The Total Money Makeover, nessuno era arrabbiato con me, com'è che adesso, che ne ho venduti 5 milioni, siete incavolati tutti con me, lui è nel campo da 25 anni, quando ho cominciato a venderne tanti, ricevo delle lettere di odio, ma perché? Quando ne ho venduti 100, erano lo stesso libro, ok, quindi la visibilità, per esempio, più la visibilità cresce, più ci sono delle rotture di palle, quindi non c'è soluzione ragazzi, ride it out, rimanete in sella, e continuate a lucrare, io sono Big Luca, il più milionario di Dubai, ci vediamo al prossimo video, ciao!